Siamo venuti a conoscere un altro degli oltre 20 esercizi commerciali che hanno aderito a Montevarchi, via In Fashion. E siamo dentro a questo esercizio commerciale dei tanti che hanno aderito. Anche in questo esercizio commerciale ci sarà abbigliamento che verrà esposto appunto per la giornata del 27 maggio, con modelli e modelle in una passerella bellissima che andrà a attraversare tutta via Roma, circa 350 i metri del tappeto rosso che verrà installato ovviamente sulla via centrale della città. Ma ovviamente io ricordo anche come sempre l'appuntamento il 27 maggio, dalle ore 16 circa, ci sarà davvero una manifestazione bellissima dove anche questo esercizio commerciale aderirà con i loro prodotti e ovviamente con i modelli e modelle che vestiranno appunto questi capi. E andiamo a conoscere un altro degli oltre 20 commercianti che hanno aderito a Montevarchi, via In Fashion. Siro, anche lei aderirà a Montevarchi, via In Fashion, cosa proporrà per l'occasione? Certamente aderire a queste iniziative che valorizzano il centro storico, oltre che essere piacevole e anche utile per noi commercianti del centro storico. Proponeremo tacchi alti con plateau e zeppe che saranno la tendenza a primavera e estate del 2012. Tante modelle e tanti modelli che sfileranno nel tappeto rosso che verrà steso su Via Roma e che mostreranno appunto le vostre scarpe. Certamente diamo l'appuntamento a tutti quelli che vorranno partecipare a questa bella iniziativa il 27 maggio, dalle 16 in poi, nel centro storico di Montevarchi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS